I cambiamenti a tutela della privacy nelle nuove normative europee. CovCommercio della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro con imprese e commercianti per parlare dei nuovi regolamenti attorno alla privacy, dalla gestione delle newsletter e dei dati dei clienti all'utilizzo di curi con vite ricevuti, dalla videosorveglianza al rapporto con i dipendenti, fino ovviamente agli organi di controllo e alle possibili sanzioni. Tanti argomenti in un pomeriggio di formazione a cui hanno partecipato esperti del settore come l'avvocato Francesco Amato e il capitano Valentina Arrigo, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Lugo. Chiaramente questo è già uno step successivo ai primissimi momenti in cui abbiamo presentato la privacy aggiornata perché la privacy esisteva già ma ha avuto appunto nel corso del 2018 un'applicazione, un aggiornamento a livello europeo. Quindi fortunatamente di fronte a tanti adempimenti che continuamente vengono aggiornati ed aggiunti le associazioni di categoria ci sono. Noi su tutto il territorio provinciale, quindi le quattro associazioni territoriali, siamo assolutamente pronti a dare assistenza e informazione ai nostri associati. Ed oggi abbiamo appunto avvocato in Guardia di Finanza che ci apriranno gli occhi e ci diranno appunto quali sono i rischi e quali sono le cose che dobbiamo fare per essere assolutamente a norma. Qual è il supporto che ConfCommercio dà ai propri associati in materia di privacy che come vedremo nell'incontro di oggi è una materia che porta anche diversi rischi per le aziende? Certamente. Noi da subito ci siamo resi conto della difficoltà quando è entrato in vigore il nuovo regolamento che sostituiva o integrava già il decreto precedente, il 196, il testo unico precedente. Quindi delle difficoltà concrete delle imprese, soprattutto le micro, le piccole, quelle che in gran parte tuteliamo ad adempiere ad obblighi alcuni dei quali nuovi, altri invece diversi ma soprattutto per quanto riguarda i registri del trattamento adempimenti nuovi. Abbiamo sondato il mercato e da subito abbiamo cercato di organizzare un servizio di ausilio, di aiuto per le imprese interno all'associazione, dislocato nel territorio, quindi Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia. Molti dei vostri associati molte volte hanno delle aziende monofamiliari o comunque con pochissimi dipendenti, quindi quali sono le principali difficoltà, i principali dubbi in cui incappano? In particolare perché non hanno del personale che squisitamente si possa occupare di questa materia, di questo argomento, già subito per l'interpretazione della normativa ma anche dalla semplice informativa, cosa scrivere, quando è obbligatorio il consenso, tutta la documentazione da approntare in base ai nuovi adempimenti in parte dei quali erano già in vigore. La difficoltà particolare è per le aziende più strutturate il registro dei trattamenti che hanno attività perché ci sono stati diversi indirizzi note e informazioni talvolta mirate sulla semplificazione ma questa benedetta semplificazione a tutt'oggi purtroppo non è stata ancora concretizzata da parte del garante perché nella sua ultima pronuncia in pratica pur tenendo conto delle micro imprese, delle difficoltà che loro hanno per applicare e per mettere in pratica gli adempimenti ha poi praticamente incluso anche le micro dal barbiere, parrucchiere, edicola o anche attività sanitaria tipo tatuatori in termini di dati sanitari. Avvocato, quali sono le novità in materia di privacy a cui devono fare attenzione appunto i commercianti con quegli esercenti? La normativa è una normativa a volta a tutelare e a proteggere i dati delle persone fisiche quindi questo è il primo step. Bisogna partire dal presupposto che la privacy è ricchezza, quindi le aziende, i commercianti, chi per esso deve capire che la privacy deve essere posta al centro della loro attività. Gli adempimenti più importanti sono innanzitutto la prima fase quella volta all'informativa, quindi chiara, trasparente, precisa ed inequivocabile, quindi su questa deve essere poi dato un consenso altrettanto libero e espresso da parte della persona a cui i dati vengono trattati, definiti dal regolamento europeo e poi dalla nostra normativa interessato. Ecco, molte volte si rischia di prendere un po' troppo alla leggera queste tematiche. Quali sono i privacy, i rischi in cui possono incorrere i commercianti? È molto rischioso, parliamoci chiaramente, anche basta andare su internet e verificare quindi le uniche previsioni del regolamento europeo in materia sanzionatoria che vanno dal 2% del fatturato globale anno fino a 10 milioni di sanzioni oppure dal 4% del fatturato globale anno fino a 20 milioni di euro. Quindi è ovvio che sono sanzioni spropositate, enormi, hanno un effetto dissuasivo è ovvio che però verranno applicate queste sanzioni anche di tenore inferiore ma certamente anche il danno d'immagine che può derivare all'azienda anche quindi da questo punto di vista l'interessato, cioè colui che i dati vengono trattati potrebbe anche agire giudizialmente perché è anche un altro tipo di tutela non solo la tutela amministrativa quindi con il reclamo gratuito, attenzione questa è un'altra novità, prima era previsto un diritto di segreteria pari a 150 euro o addirittura, qualora ravvisasse un danno causato dal legittimo trattamento dei dati potrebbe attivarsi quindi in sede giudiziaria o intentando una causa per danni.